Buonasera a tutti, io sono Pamela e ho 18 anni e vivo in provincia di Bari. Oggi sono qui per propormi di provare ad andare a messa anche in settimana, perché ultimamente sto notando che faccio fatica anche ad andarci durante il weekend, quindi secondo me potrebbe essere utile, anche se comunque è importante andare a messa di domenica, provare se proprio non ci riesco nel weekend a andarci in settimana, quindi almeno una o due volte così, insomma, ho avuto il mio momento con Dio. Perché mi viene difficile nel weekend? Perché il sabato sera, diciamo di solito esco con i miei amici perché dopo tutta la settimana di studio a scuola preferisco il sabato sera appunto per distrarmi ed è necessario perché altrimenti comincio di nuovo la settimana che sono subito stanca e invece di domenica appunto perché il sabato sera sono uscita mi riesce un po' difficile, insomma, svegliarmi, è un po' pesante, anche perché vado a messa in un'altra città, perché appartengo alla fraternità di un'altra città, quindi preferisco, se devo scegliere, andare a messa e stare con loro. E niente, quindi questo è quello che io vorrei provare a fare. Grazie.